ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora siamo in giro adesso vi faccio vedere un po ok perché siamo non riesco a vederlo qui c'è giorgina sì ma tanto dobbiamo entrarci dopo noi dobbiamo aspettare gli altri e niente quindi oggi un franzetto in famiglia viene anche mia sorella mia mamma invece no e niente adesso iniziamo a segnarci quello che vogliamo prendere così dopo facciamo prima tanto che aspettiamo maurizio e che è andato a prendere che l'abbiamo lasciati a casa un attimo gabriele e manuen e niente quindi noi nel frattempo adesso ci prepariamo quello che vogliamo prendere qui c'è anche pia ciao a tutti 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 a tutti ciao a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti